Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. Gofferati, lo chiedo a lei, stiamo parlando di una persecuzione. Con questo si chiude il tempo della persecuzione di Silvio Berlusconi. Prego Gofferati. Io credo che sia giusto tenere separata la dimensione giudiziaria da quella morale. Dopodiché, qualunque sia la conclusione della situazione che è stata affrontata dai giudici, questo non cancella né modifica il giudizio morale sui comportamenti, soprattutto i comportamenti di chi ha in quel momento incarichi istituzionali di primissimo livello. Per favore, vediamo di considerare la morale per quello che è un segnale positivo nei confronti dei cittadini che rappresenti se ti comporti come è normale che si comporti una persona. Tutto quello che fai fuori dalla norma è un danno per te, ma è un danno anche per le persone che rappresenti. Dunque, per cortesia, io penso che se ci fosse stata una condanna ci saremmo trovati di fronte ad una situazione drammatica per il governo, perché la Presidente del Consiglio negli stessi giorni, nelle stesse ore, gestire da un lato il problema di Berlusconi su Zeleschi e dall'altro la condanna era evidente che gli faceva saltare un rapporto utile e giudicabile normalmente della sua coalizione. Questo non è capitato, si va avanti, come è giusto che sia, però la dimensione morale non può essere annullata dal fatto che i giudici si sono pronunciati in quel modo. Questo va per il passato, aggiungo che varrà anche per il futuro, perché siamo di fronte a ripetersi… È normale la giustizia che tiene… No, io non sto dicendo che la giustizia non è normale, ma si definiscono i provvedimenti per quel che sono il parere e i giudizi che vengono espressi nelle sedi opportune. Quei giudizi e quei provvedimenti non cambiano il giudizio sulla moralità delle persone, soprattutto di coloro che hanno una funzione, un compito istituzionale di primissimo livello. Allora, arrivo anche da Alessandra Ghisleri. Allora, arrivo anche da Alessandra Ghisleri.